Devo rispondere al messaggio di Addy. Che cosa le dico? Fallo sciolto. E come? Mandale un emoji. Ok, forza. Benvenuto nel mondo nascosto nel tuo cellulare. Dove le emoji come me vivono e lavorano. Ognuno di noi ha un solo e unico compito e dobbiamo essere perfetti sempre. Messaggio in arrivo. Richiesta per un bar. Chi? Che sta facendo? Sta facendo la faccia sbagliata. Che vuol dire? Devo fare aggiustare il telefono. Non era mai successo prima e ora Alex ha preso appuntamento per formattare il telefono. Se Alex cancella tutto, verrà cancellato anche tutto il nostro mondo. La responsabilità è mia. Ho commesso un errore. Ma ora rimedierò. Forse possiamo sistemare tutto. Dobbiamo solo andare dove le emoji non sono mai state prima. Nel cloud? Conosco una scorciatoia tra le app. Ma nessuno ha mai lasciato la città. Manderanno dei boss a circa... Che posto è questo? Il più bello del mondo? Candy trash. Non mangerò mai più una caramella. Invito mia. Gimme five. Non farlo. Non mandarla giù. Ti si è già riproposta. Fireball! Dobbiamo distrarre i bot. Ho un'idea! Che viva! Fra non molto il telefono verrà formattato. Dobbiamo indovinare la password. Accesso negato. Potrebbe volerci un po'. Come? Accesso negato. Justice! Dovremmo uscire di qui ballando. Tutti sanno ballare. Dici? Dici? Dovremmo uscire. Dici? Grazie.